Grazie, lei è stata molto gentile, si è incontro quella ragazza in presenza di mia moglie? Ho capito, è una strada donna, un'incrocio fra Cervi Ma come si permette? Che so sta confidenza? Ma io manco te conosco, ma vedi da andare a te ne sto burino? Ma lo sai che ti dico? Papà, non è mai stato te, quella con noi di tua moglie, quella con tu zocca, quella che ti porti a presso A te richiato! A te sta di cazzo! Per l'educazione, e poi magari mi può dirlo, magari mi sono fatto sia tua moglie che la tua amante in cesto di corna Per l'educazione, e poi mi sono fatto sia tua moglie che la tua amante in cesto di corna